Rotary Club Ortigia, serata speciale all'insegna della beneficenza e della professionalità. Serata davvero speciale è quella organizzata da Rotary Club Siracusa Ortigia nella splendida cornice di Punta Maddalena. Una serata speciale per il folto ed eterogeneo pubblico presente, ma soprattutto per l'abbinamento degli argomenti trattati, i quali rappresentano di certo due elementi fondanti e caratterizzanti del Rotary Club Siracusa Ortigia, la solidarietà e la professionalità. Ha riscosso un successo al di là delle aspettative la festa di beneficenza organizzata lo scorso venerdì 13 settembre dal Rotary Club presso Punta Maddalena con una partecipazione entusiasta di oltre 200 persone. L'evento, finalizzato dalla raccolta fondi in favore della Rotary Foundation, è stato animato da un duo di musicisti, nonché dal noto DJ Pierluigi Incastrone, socio del club, che ha saputo trasformare la serata in un vero e proprio happening musicale. I partecipanti si sono divertiti e hanno ballato fino a tarda notte, contribuendo al tempo stesso a una causa nobile. Grazie alla generosità dei presenti e all'organizzazione impeccabile, la serata ha permesso di raccogliere fondi significativi che saranno destinate ai progetti umanitari della Fondazione. La suggestiva cornice di Punta Maddalena ha reso l'evento ancora più speciale, creando un'atmosfera unica di solidarietà e divertimento. Conclusione della serata, il presidente del club, Michela Vasquez, ha personalmente provveduto a consegnare cibi e bevande non consumati alla mensa parrocchiale del Pantheon di Siracusa, che ogni giorno fornisce pasti ai meno ambienti.